Di nuovo per il titolo a Matteo, premiamo a Matteo, 155 liberi, un round, 10 minuti, partiamo subito. Erano Bianco, Fabio Battistini. Tiro, buona! Fabio Battistini, concesso a Barba, lì. E adesso, a mano a mano, Manuel Pirazzini, tv utile indolese, Lolla. Manuel Pirazzini, 153.38. Spoto. Ammigla, novezzo, spoto. Titolo a Matteo. No more. Tira un montante, tira un montante, archi un montante, occhio alla cura al piede, tira un montante, un montante. Poi, entro dentro, entro dentro, entro dentro col piede, vuota con la faccia verso terra, vuota, bravo. Sali, 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 sali. Ok. Altina, dritta, la puoi tirare anche sull'altro piede, su quella. Esatto. Se vuoi fare quella distracistina, devi tirare sull'altro piede, sul suo sinistro. Capito? Se vuoi fare... Sì, bravo. Ok, adesso gliela puoi tirare, devi girare l'archi verso di me. Giriti verso di noi, l'archi, giriti verso di noi, ok? Bene, bene lo stesso. Sì, sì, bravo, bravo. Uro! Thank you. Vince l'Ambra della Pasciata Missione a 56 secondi in mano, Pirofini, tipo di regola in esaltata! Grazie a tutti!